Scusate, come mai avete scelto di essere in piazza oggi? Soprattutto in difesa della sanità pubblica. Da dove siete arrivati? Da Bologna. Come mai avete scelto di essere in piazza oggi? Siamo in piazza perché la sanità non funziona, c'è un arretramento, c'è un disinvestimento e le persone soffrono, non possono curarsi e nemmeno fare prevenzione. Da dove arrivate? Da Bustorsizio Varese. Come mai avete scelto di essere in piazza oggi? Per difendere la salute pubblica, che è un diritto costituzionale per tutti. Cosa non vi piace che sta facendo il governo? Sta destrutturando un diritto costituzionale come la sanità pubblica, semplice. Da dove arrivate voi? Siena. Buongiorno, come mai avete scelto di essere in piazza questa mattina? Perché il livello di sanità nel paese e da nord a sud ha raggiunto dei limiti intollerabili. I cittadini devono comprare la salute. Oggi ci sono tante federazioni, tante associazioni, tutte insieme, è un segnale forte al governo? Assolutamente. C'è tanta CGL, c'è la Feder Consumatori, ci sono tante altre associazioni. È un modo di dire che sulla sanità non si può continuare a tagliare. Il diritto alla salute non può attendere, visto le liste d'attese che ci sono in ogni parte d'Italia e che costringono i cittadini a comprarsi le cure. e che costringono i cittadini a comprare. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.